Allora, eh mamma mia quante cose, quante cose hai fatto tu Emiliano. Allora, Emiliano Toso è biologo, cellulare e musicista, compositore a 432 Hz e già per questo io le amo la follia. Poi, laureato in scienze biologiche e dottorate in biologia umana presso l'Università di Torino, con specializzazione in basi molecolari e cellulari. Intraprende un'importante carriera scientifica, lavora a 16 anni associate director del gruppo Biologia Molecolare. Bene, finora io non capisco se senti la musica, ma me lo spiegherà. Accanto alla ricerca scientifica coltiva una profonda ricerca di crescita personale. Nel 2013, infatti, Emiliano Toso stravolge la sua vita, realizzando un sogno. Incide il suo primo album, Transational Music. Questo album inizierà a diffondersi sempre di più, diventando un vero e proprio progetto di integrazione di tabliologia e musica a 432 Hz, supportato ed affiancato dal dottor Bruce Lipton. Da questo momento inizierà ad essere invitato in tutto il mondo, come relatore conferenze internazionali, da pertenere concerti che integrano musica e scienza. Ma soprattutto è seduto accanto a un pianoforte Stanway. Ciao. Ciao Red, è un grandissimo piacere. Oggi vi ho seguito praticamente tutto il giorno. Ho visto, ho visto. Sono davvero emozionato di essere qua con te. Ti ho visto tante volte in televisione, adesso sono davvero emozionato. Poi anche gli interventi precedenti mi hanno proprio toccato il cuore. Allora, tu diventi musicista dopo? Cioè prima tu ti occupi di biologia? Sì, la mia parte musicale è sempre stata un po' un segreto. Io sono sempre stato affascinato da come siamo fatti, dalle nostre cellule. Ho fatto tutto il mio percorso di studi istituzionale all'università, al mio laboratorio di biologia molecolare. Nessuno sapeva che avesse un pianoforte. Chiuso dentro una stanzetta, la sera mi mettevo davanti a quel pianoforte e mi esprimevo attraverso, le mie emozioni attraverso quel pianoforte. Però non ho mai suonato a nessuno. Quelle emozioni possono diventare delle piccole composizioni. Con la mia matitina verde le scrivevo a mio modo. Tutto in un modo completamente fuori da ogni tecnica, da ogni giudizio. Questa parte è sempre stata segreta. E finché a un certo punto questa mia passione, questa mia anima, questa mia parte così profonda e fragile è uscita fuori. Il mio nuovo manager non era più tedesco, svizzero, come quelli dell'istituto in cui lavoravo, ma è diventato l'universo. Mi piace pensare che l'universo mi ha spostato, e sono rimasto ancora un po' spostato, verso una nuova direzione in cui dovevo condividere quella mia musica. Ed è stata una cosa forte. L'universo, questa non l'avevo mai sentita. Il manager non è più tedesco, ma è l'universo. È una roba bellissima. Sì, qualcosa di grande. Poi qualcuno lo chiama Dio, esistenza. Però è bello sentirsi spostati in cui ti puoi appoggiare, perché per me, biologo, molecolare, e tutta questa parte, dico adesso cosa devo fare? Condividere la mia musica. Ma chi me lo fa fare? Aspetta, aspetta che c'è. Aspetta, fermati, fermati. C'è già un messaggio che io voglio che tu mi spieghi. Simona Miotto scrive La musica di Emiliano Toso è un dono meraviglioso. Accompagna il percorso di rinascita, cura e guarigione di ogni mio paziente da anni. Scusa, cosa vuol dire questo messaggio? Cioè, tu curi con la musica. Cioè, non tu. Anche chi usa la tua musica cura. Sì, quello che ho scoperto, intanto la prima cosa è che potevo condividere la mia musica, perché nessuno mi ha mai insegnato né a suonare, né a comporre, né a suonare in pubblico. Cioè, era una cosa che facevo solo per me. Poi ho scoperto che questa musica, una volta condivisa, oltre a far bene a me, faceva bene agli altri. E quindi, in questi ultimi sette anni, mi hanno scritto molte persone, nei vari ambiti, dalla nascita all'accompagnamento alla morte, a momenti di trasformazione, per la concentrazione, per la creatività. Mi sono arrivate dei messaggi forti, per cui ho capito intanto che questa musica non è mia, mi arriva da qualche altra parte. E sono stato fortunato a poter ricevere, attraverso la mia tetina verde, questi messaggi che mi fanno stare così bene, perché sento che sono proprio io a fare questa cosa. Devo fare questa missione. Quindi ho lasciato tutto per questa nuova missione, ho lasciato il mio vecchio lavoro, ho rivoluzionato tutta la mia vita e devo fare questo. Ed è bello ricevere ogni giorno questi riscontri, perché sento proprio che lo devo fare in questo modo, che è un modo unico, non è giusto né sbagliato, fuori dal giudizio, questo per me è fondamentale, perché quella parte così profonda sono proprio io. E quindi il fatto che mi dicano se sono bello o brutto, faccio piangere, faccio ridere, sono noioso, cioè che la mia musica venga confezionata in qualche parametro, mi va un po' a toccare quella parte di fragile, quindi io nella mia espressione sono così, lo faccio in quel modo e continuo a farlo perché vedo che fa bene a me e fa bene a chi è intorno a me. Poi la mia parte scientifica è curiosa e vuole andare a capire come mai queste cellule sono mai studiate. Esatto, allora, 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 guarda, la tua splendida musica, Emiliano, la faccio ascoltare anche agli animali per creare uno spazio sereno. Ti definiscono un guaritore. Emiliano ha suonato il pianoforte in sala chirurgica con un bimbo sotto i ferri. Mi spieghi questa roba? Sì, questa è stata una delle esperienze, tra l'altro si chiama esperienza, questa è stata una delle esperienze più forti perché alla fine di un mio concerto... Metti il microfono più vicino, Emiliano, Ah sì? Ok, ok, dimmi. Va già meglio di ieri però, eh. Sì, no, è arrivato... Allontano un po' il microfono adesso che è troppo vicino, esatto. No, perché volevo svelare che ieri abbiamo fatto prove che sono durate a intermittenza per circa 40 minuti perché poi dopo... Non so adesso come tu abbia risolto però perché dopo, dopo, visto che ha uno stanway e visto che sta parlando di questa musica e visto che credo che questo stanway sia accordato a 432 Hz... Ah, certo. Allora dopo chiudiamo gli occhi e ci ascoltiamo Emiliano che suona e così termina questa prima maratona evento di coscienza. Dimmi, allora, parlami di questo intervento di un bambino con te che suonavi. Sì, alla fine di un concerto è arrivato un neurochirurgo, il professor Roberto Trignani e mi ha detto io ascolto la sua musica in sala operatoria, opero normalmente con la sua musica di sottofondo, però per una cosa che non è mai stata fatta al mondo. Cioè che lei venisse con il suo pianoforte, 400 kg, dentro la sala operatoria per un intervento chirurgico di 5 ore ad un bambino di 10 anni per una duplice esportazione di un tumore al midollo spinale. Io in questi casi appunto devo sentire il mio manager un attimo perché dico cosa faccio? Dico uno strumento che di solito suona in un teatro di mille posti, in una piccola sala operatoria per 5 ore e poi l'ho fatto. Fermati, 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 devo sentire il mio manager. Visto che hai detto il tuo manager all'universo, come lo chiami? Telefoni, ha un cellulare, come funziona che tu senti il tuo manager? Chiudo gli occhi e ascolto il cuore, quindi spengo la mia parte che dice ma qui ho paura, cosa vado a fare? Quindi vado nei boschi qua vicino e sento la natura e quello che c'è dentro di me è la mia parte più profonda. Cosa dice? Se sarò me stesso, quello che mi ha fatto sentire veramente me stesso è che in quella giornata la musica è stata parte proprio dell'orchestra che salvava la vita a questo bambino, quindi oltre ai chirurghi, gli anestesisti, gli strumentisti, c'era anche la musica. Ci siamo presentati proprio al bambino e ai suoi genitori dicendo siamo qua all'inizio, lui era ancora sveglio e proveremo a salvarti la vita ognuno con i suoi strumenti. Questa trovo sia anche la bellezza di questo momento storico, non se ne è parlato oggi di questa integrazione tra saperi diversi. Quindi il musicista può entrare in ospedale, il biologo può comunicare col medico, il medico può comunicare con chi si occupa di animali, di piante e questo lo trovo molto simile a quello che troviamo dentro il nostro corpo. Se potessimo entrare dentro il nostro corpo, io l'ho fatto con i miei studi, il mio microscopio, vedremmo che le nostre cellule lavorano così, proprio come vorremmo, non come il telegiornale. Lavorano così, quindi cellule dell'osso collaborano con cellule della pelle, cellule del cuore, cellule del sangue, cellule che stanno nascendo con cellule che stanno morendo. E quindi ci sono tutti questi valori dentro ognuno dei nostri corpi che sono proprio quelli che vorremmo vedere nel mondo e sono milioni di anni di evoluzione, un'intelligenza che ogni cellula ha in grado di decidere da sola che cosa fare, che cosa diventare, che cosa esprimere. e questo secondo me l'uomo per tanti anni l'ha sperimentato, adesso sta un po' deviando, ma sono sicuro che attraverso l'arte, attraverso la conoscenza del nostro corpo di come siamo fatti, ritorneremo a questa natura, perché è la nostra vera natura e la impariamo entrando dentro di noi. C'è nascita, c'è morte, c'è connessione con la natura, con lo spazio, con l'universo, ci sono dei linguaggi trasversali, le cellule comunicano tra di loro attraverso la luce e il suono, ne ha parlato prima anche Mascazzè, quindi se mettiamo un microfono in una cellula sentiamo il suono di quella cellula, di una cellula che sta bene, di una cellula che sta male, di una cellula morta. Il professor Carlo Ventura studia questo e come la musica può diventare un potente strumento anche di integrazione per la medicina. Emiliano, una cosa, tu sei biologo cellulare e poi mi parli di musica a 432 Hz, quindi tu avrai studiato il perché la frequenza a 432 Hz fa stare bene mentre la frequenza a 440 che si dice sia stata imposta da Hitler tramite Goebbels non faccia stare bene. Tant'è vero che c'è se uno va su internet e digita 432 HTZ che è Hz e va in immagini ci sono proprio due cerchi dove ti fanno vedere la riflessione della frequenza sull'acqua a 432 a 440 a 432 è un disegno armonico a 440 no e noi siamo fatti soprattutto di acqua. Ti sei chiesto il perché? Sì, io innanzitutto le decisioni più importanti della mia vita le ho prese come ti dicevo prima chiudendo gli occhi col cuore quindi un giorno mi hanno consigliato di accordare il mio pianoforte a 432 HTZ senza sapere niente ho sentito che il pianoforte si è umanizzato è diventato più morbido più caldo è diventato quello che meglio poteva esprimere me stesso e quindi ho deciso che io avrei sempre suonato con pianoforti acustici a 432 HTZ e anche gli altri strumenti violoncello violino flauto gli strumenti che suonano con me suonano in quel modo poi ho cercato di capire perché poi si accende dopo la mia parte di scienziato e quindi sono andato a vedere anche storicamente che cosa è avvenuto e la decisione di un'accordatura standard a 440 Hz è stata presa proprio durante le guerre quindi serviva quella musica una musica brillante una musica della marcia delle bande che andavano in marcia una musica che portasse fuori proprio ovviamente questo movimento per andare fuori l'esibizione del musicista serviva questo tipo ancora adesso per molti tipi di musica serve questo tipo di movimento verso fuori la musica a 432 Hz quindi con il La centrale a 432 Hz e di conseguenza come diceva Mascazze e anche Raffaele Fiore prima tutte le altre note vengono accordate diversamente si creano proprio tutta una serie di armoniche per esempio frequenze che risuonano meglio con il battito della terra la terra il nostro pianeta è uno strumento musicale che è un suono un Do molto basso che risuona con i Do di questo pianoforte accordato in questo modo quindi è importante anche poi sono andato a vedere come mai ci sono queste frequenze che entrano in risonanza più facilmente con il nostro cervello con le cellule del nostro corpo con il pianeta Terra per quello che sappiamo adesso con i principi della geometria sacra quindi 8 Hz quindi tutta la parte di base 8 e quindi tutto questo lo stiamo cominciando a studiarlo fa parte di Translational Music che è il mio modo di fare musica che tra le varie cose ha questo tipo di linguaggio è un linguaggio che ci porta dentro verso il silenzio verso di noi stessi una musica diversa che ci serve proprio per entrare dentro di noi un movimento diverso a me piace durante i miei concerti soprattutto chiedere di non applaudire al termine dei brani di sentire lo spazio tra una nota e l'altra mi piace farli sdraiare sotto il pianoforte proprio perché sentano le frequenze proprio lì che arrivano per creare un'esperienza forte perché prima della conoscenza c'è l'esperienza quindi credo che uno una volta che entra in contatto con qualcosa di forte chiude gli occhi mette una mano sul cuore e capisce prima ancora di andare a leggere tutti i libri e di fare tutti gli studi capisce che quello è per sé è la via giusta per sé guarda c'è un messaggio che se è vero è allarmante di Melania Frigeri dice sembrerebbe anche che su Spotify chi desidera caricare la propria musica sia obbligato a caricarla a 440 Hz no questo non è non è vero perché io ho caricato i miei brani a 432 Hz e non sono state cambiate le frequenze però pensa che c'è una cosa che fa venire i brividi non so quanti lo sanno che nella Costituzione italiana c'è scritto che è proibito suonare con strumenti accordati diversamente da 440 Hz nelle televisioni pubbliche nei conservatori è proibito nel 1989 Cossighe e De Mita hanno scritto questo pezzo della Costituzione italiana in cui bisognava suonare solo a 440 Hz allucinante senti allora voglio sentire una cosa tu hai parlato di dischi dove sono i tuoi dischi? i miei dischi io non ho case discografiche non ho produttori non ho agenti appunto il mio unico manager oggi l'abbiamo l'universo se uno si rivolge all'universo dove ti dice di chiederli i dischi? allora innanzitutto una cosa importante che non ho detto è che i miei genitori fanno parte di questo viaggio perché vedi il quadro che ho dietro tutti i quadri ogni mio brano è diventato un acquerello della mia mamma Vilma che traduce i miei brani in acquerelli mentre il mio papà ha fatto sì che ci fosse questa stanza fondamentale per me in questi due anni in cui non potevo più fare i miei concerti i miei dischi rivendo ai miei concerti rivendo sul mio sito emilianotoso.com e basta poi li trovate nella musica liquida però è importante l'ascolto dal CD o dal vinile io ho fatto anche un vinile e dov'è? il vinile è laggiù adesso lo vado a prendere se vuoi sono affascinato da questa sono affascinato e sono affascinato da tutti oggi oggi è fantastico eccolo qua il vinile con un quadro di tua mamma certo poi dentro ci ho messo anche dentro ci ho messo anche il CD perché molte delle persone che acquistavano il mio vinile lo prendevano continuo a far vedere continuo a far vedere allora si chiamano semi d'amore giusto? giusto trans cosa vuol dire translational music translational music te lo faccio vedere con le mani aspetta perché è una cosa che mi è arrivata così è un mare di cellule sotto un cielo di musica cioè praticamente sono due piani translational deriva un po' dalle mie conoscenze probabilmente scientifiche vuol dire passare da un piano all'altro e allora mi sono immaginato che questa musica parte dalle cellule arriva ad un piano un po' più leggero che è quello della musica in modo che si possa spargere in tutto il mondo e poi scende come una pioggerellina di nuovo sul piano delle cellule le cellule siamo anche noi ognuno di noi è una cellula di un grande organismo che è l'umanità e quindi mi immagino questi due piani uno più leggero dell'altro Emiliano chiaramente questa è la prima volta che ci vediamo poi ci incontreremo perché tu dovrai o vengo a trovarti io eccetera perché sono troppo affascinato da tutto questo adesso tu hai uno Stanway allora spiega un attimo che cos'è lo Stanway per un pianista eh cioè ti giuro sono commosso a pensare che qui vicino ci sia il pianoforte proprio dei miei sogni che non pensavo ma l'universo mi ha premiato con tutto quello che mi serve per esprimere al meglio cioè piuttosto di prendere una macchina una casa io ho preso questo Stanway me lo sto un po' comprando un pezzo per volta alla mia età e quindi anche non costa come uno Stanway nuovo però è uno è il pianoforte per me più bello che esista per quanto riguarda me il mio modo di suonare per poter esprimermi attraverso la musica perché suona praticamente da solo ha delle parti soprattutto negli altri adesso è inutile essere tecnico perché quando uno è emozionato è bello che lo esprima con l'emozione mi sembra proprio che sia una parte di me come una parte del mio corpo e quindi quando mi avvicino a lui la musica nasce da sola a volte compone lui credo allora 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 è bello perché io ieri gli ho chiesto durante le prove ma tu che pezzo fai? un pezzo tuo? e lui ha detto io faccio solo pezzi miei gli altri non li so suonare quindi se uno ti chiede Chopin tu dici scusami ma soltanto come autore conosco solo uno che si chiama Emiliano Toso quindi senti Emiliano finiamo con uno o due tuoi brani musicali tu suona ok? che brano fai? grazie che brano che brani? io decido sempre all'ultimo momento ho pensato adesso guardando quel quadro là dietro in titola Portrait e vuol dire ed è il primo brano che ho composto cioè la prima volta che ho deciso di prendere questa matitina verde e di scrivere piano piano su tra l'altro un quaderno di musica che aveva Giuseppe Verdi ma io non sapevo ancora niente di Giuseppe Verdi del 432 boh ho scritto lì così quindi suonerò questo brano e poi dopo questo brano visto che mi hai chiesto addirittura speravo di poter fare ancora una cosina inventerò un brano che sento un po' come espressione di questa giornata di coscienza mi sono fatto un po' diciamo penetrare da tutte le vibrazioni di coscienza da Schur tutta notte dalla Beatrice Carbone dall'Erica Poli da tante vibrazioni diverse ognuno di noi è bello perché è proprio diverso quindi dai silenzi dalle luci dalle risate anche di Giorgia che avete fatto dal Moscato quindi proverò tutto quello che c'è stato a farlo diventare musica quindi dopo il mio brano portrè farò questo se ne lo consenti ma assolutamente assolutamente sì allora fai questi 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 brani noi ti ascoltiamo e mi stanno dicendo che durante la pandemia hai regalato delle serate su Facebook meravigliose stanno scrivendo ti ringraziano di questo allora fai i cambi microfoni che devi fare e ah una cosa sola Emiliano tu dove vivi? vivo in un paesino vicino a Biella tra Milano e Torino qui vicino al Bosco ah ok ok Emiliano Toso con Portrait che è stato il primo brano che ha composto con la sua matita su un quadro che non sapeva fosse di Verdi e non sapeva neppure che Verdi coincidenza era uno che si è arrabbiato moltissimo quando hanno cambiato le frequenze da 440 a 432 vi ricordo per l'ennesima volta che tutto l'album The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd è stato registrato 432 Hz trasgredendo le regole non sapevo che avessero fatto una legge nell'89 dove si può impedire dove si impedisce di fare musica a 432 Hz anzi che non sia 440 sono contento che trasgrediamo sia io che Emiliano Toso a questa regola facendo musica a 432 Hz e adesso ci ascoltiamo Emiliano Toso fai i cambi microfoni Emiliano fai quello che devi fare a 432 Hz a 532 Hz Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.